non c'è rimasto niente ci sono gli uomini della protezione civile, poverini, non possono fare niente la vetrina è ancora in piedi, si si la vetrina si, il letto si sta no, c'è il tavolino si vede il letto signora, come va? va un po' meglio? ancora vi sentite aggirata? grazie grazie grazie